salve ricercatori della terra piatta commentatori e debunkers ho il piacere di provare ad illustrarvi come funziona l'orizzonte ed il tramonto del sole vedete un uomo in piedi sul limite di una scogliera che guarda diritto nel nulla nella sua linea di veduta orizzontale una linea che crea il suo orizzonte qui abbiamo il percorso attuale del sole sopra la terra piatta che va oltre in distanza e continua a mantenere la sua altezza costante sopra il piano piatto bene qui vediamo un'illustrazione della prospettiva di come vediamo il mondo quando guardiamo diritto davanti a noi tutto quello che è sulla superficie si innalza verso il punto in centro il punto di fuga e tutto quanto nel cielo scende in basso sempre verso il punto di fuga pertanto se mettiamo il sole la sopra quando si allontana da noi questo è quello che vedremo ovviamente le persone dicono che dovremmo vedere il sole rimpicciolire certo succede anche da questa prospettiva bassa al suolo ma non è troppo evidente perché non riusciamo a vedere molto lontano attraverso la superficie quando il sole rimane per lungo tempo lontano e questo è il motivo per cui non abbiamo la possibilità di vedere troppi cambiamenti della grandezza della nostra prospettiva al suolo ma una volta che ci troviamo in alto e guardiamo da un aereo o comunque fossimo in alto noi vedremo il sole rimpicciolire mentre si allontana lontano a causa della prospettiva ecco qui abbiamo un'altra illustrazione della prospettiva con dei quadri che apparentemente sono della stessa grandezza ma in lontananza si vede che si avvicinano sempre più insieme convergendo in distanza sulla linea dell'orizzonte alzandosi sulla superficie e scendendo dal cielo per incontrarsi nel mezzo noi vediamo questo e dalla fine tutto quanto si compatta e si condensa e non siamo più in grado di scorgere alcun dettaglio e questo è il punto di fuga è il limite della nostra visione indipendentemente dalla grandezza o dalla forma della terra ma questa non è ancora una vera rappresentazione di come vediamo il mondo dalla nostra prospettiva con la base qui in terra passi sulla superficie sarà molto simile a questo vedete che la superficie rimane la stessa dal nostro punto di prospettiva di base indipendentemente come dicevo dalla grandezza dalla forma della terra e la superficie si innalzerà sempre almeno fin nel mezzo al livello del nostro campo visivo la parte superiore è quella del cielo e qui possiamo vedere che il cielo è molto ampio perché riusciamo a vedere molto di più del cielo rispetto a quello che possiamo vedere della superficie non possiamo vedere sotto oltre la superficie ma il cielo è trasparente pertanto riusciamo a vedere molto più lontano di quella metà della parte in alto del nostro campo visivo quello che abbiamo quello che vediamo qui è che la terra indipendentemente che sia piatta o rotonda viene semplicemente bloccata quella metà sotto della nostra visione e ci porta dei dettagli in fronte a noi fino ai nostri occhi in quanto il cielo ha molta più profondità di campo visivo nella metà superiore del nostro campo di visione torniamo indietro sulla cima della nostra montagna dove abbiamo la prospettiva dell'osservatore rappresentata nella griglia bassa qui sulla parte destra le frecce viola rappresentano le linee di convergenza sull'orizzonte dell'osservatore qui abbiamo il sole e come apparirà nel suo percorso mentre attraversa il cielo mantenendo la distanza costante sopra la terra possiamo vedere adesso che il sole apparentemente è sceso sotto l'orizzonte dell'osservatore dentro la metà bassa del suo campo visivo e questo l'abbiamo già visto prima con la superficie non importa quale sia la forma o la grandezza la metà in basso si innalza sempre sul nostro campo visivo pertanto quello che questo signore può vedere qui è lo spazio davanti a lui non avremo mai una situazione così perché abbiamo sempre qualcosa come l'acqua di fronte a noi e questo è come funziona l'orizzonte è sempre negli occhi di chi osserva la metà in basso si alza e l'altra metà in alto è il suo campo visivo che non ha nulla a che fare con la forma della terra grazie